Ciao ragazze, in questo video tutorial vedremo un trucco con una conciatura simpatica e veloce per quelle volte che siamo di fretta, però vogliamo sempre essere belle cominciamo dal trucco ho scelto due colori di marrone che secondo me sono molto naturali con una matita verde sotto gli occhi Grazie a tutti A presto per la conciatura ho scelto una treccia a S che è fatta soltanto di due gioche molto semplice e veloce però molto elegante allo stesso tempo per fare questa treccia scelgo una sezione dal mio ciuffo che dividerò in due parti uguali la ciocca che ho nella mano sinistra passa sopra la ciocca che ho nella mano destra quindi sulla ciocca che ho nella mano sinistra aggiungo una ciocca dall'esterno e la passo sopra la ciocca che ho nella mano destra e continuo così fin quando arrivo dietro la testa aggiungendo ciocche dall'esterno soltanto sulla parte sinistra della treccia a presto a presto quando arrivo dietro la testa fermerò la treccia con un elasticino e con delle forcine e farò la stessa cosa sull'altra parte della testa a presto a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.